Buon pomeriggio a tutti ragazzi, allora parliamo seriamente perché veramente è ora di finirla è ora di finirla assolutamente, intanto premento che chi si mette la faccia e si sbilancia sempre più le palle lui rispetto a chi non si sbilancia mai e giudica a partita finita praticamente allora io avevo detto che secondo me il Napoli avrebbe vinto contro il Chievo Verona ma faticando così è stato, c'è stato un altro mio collega con il quale ho avuto ed avrò anche in futuro molte diatribe, il quale, non lo cito nemmeno perché poi molti mi direbbero appunto, mi dicono che se parli bene di uno è perché lecchi il culo per le visualizzazioni, se parli male è per attaccarlo e per avere le visualizzazioni, allora non lo cito così comunque chissà, insomma sapete di chi parla vabbè comunque a parte questo, lui aveva detto semplicemente che secondo lui il Napoli non avrebbe vinto adesso molti gli danno dell'incompetente, perché? Per un gol a 30 secondi alla fine? allora l'importanza è nel leggere le partite, poi il risultato può essere uno o l'altro ma dipende anche da molti fattori, dall'episodio, da un angolo dato che non doveva essere dato ad esempio, dato che c'era fallo di Colibali che tra l'altro è come Marquez, lui fa quel cazzo che vuole sempre in area di rigore avversaria, soprattutto anche nella propria e non viene mai punito, comunque detto questo, che tra l'altro anche ieri lui ha fatto una grandissima cazzata insieme a Tonelli, però vabbè, comunque non si può giudicare la competenza di uno da un episodio perché alla fine è un episodio, a 4 minuti alla fine il Napoli stava perdendo e lui aveva ragione che cazzo ne sa uno, cioè ripeto, la competenza si vede, si vede, non si vede, si vede da come da quello che pronostica uno sull'andamento della partita, non sul risultato esatto, perché ripeto, il risultato esatto dipende da molti fattori, dagli episodi soprattutto, ma tu devi il Napoli, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti che è in una fase non ottimale sia fisica che mentale, bene, adesso arriviamo anche all'altro punto perché qua veramente è ora di finirla, gli umentini, i miei tifosi, adesso pessimisti perché il Napoli ha vinto 2-1 al 93, eh ma questi adesso saranno galvanizzati, ci daranno il filo da torcia fino all'ultimo, rischiamo di perderlo perché poi abbiamo Milano e Roma in trasferta, tutte queste cose qua che sono giuste per carità, non metto in dubbio questo, però alla fine poi sono gli stessi che mi dicono, tu devi credersi a Madrid, contro il Real Madrid gliene facciamo 4, contaci, contaci, vabbè comunque detto questo, ma non per altro, perché comunque abbiamo giocatori che in Europa hanno sempre deluso, come Higuain, a parte qualche partita sporadica, però Higuain lo considero un po' come Ibrahimovic, grande fuoriclasse, ma anche a Ibra gli è sempre mancato quello step per diventare un campione a livello internazionale, perché non parlo, non so di quando era con il PSG, però quando era con noi, con l'Inter, col Barcellona, ha sempre steccato in Europa, la stessa cosa per Higuain, Higuain a parte qualche partita con il Monaco o con altre squadre, non ha avuto quella continuità che hanno i grandi campioni a livello internazionale, basti pensare che i campioni, i veri campioni, perché è inutile che voi mi diciate, vabbè ma Messi, Ronaldo, sono marziani, ma quelli sono campioni, non è che sono marziani, sono campioni, sono campioni, qui il problema vostro è che state definendo campioni, qualsiasi tipo di giocatore che riesca a fare un minimo una giocata buona, positiva, un gol, un grande gol, una stagione ottima, non sono quelli i campioni, puoi definirli fuoriclasse, ma i campioni sono altri, ok? Sono altri, come CR7, Messi, Neymar, questi sono tre campioni, basta, una volta i campioni quali erano? Chi erano soprattutto? I del Piero, anche lo stesso Totti, anche se mi sta sul cazzo, Baggio, poi parliamo di altri a livello non italiano, Ronaldinho, Kakà, questi erano campioni ragazzi, Ronaldo, quello vero, questi erano campioni, non, eh vabbè, Siccardi fa 30 gol, campione, Immobile ne fa 25, campione, Zeko, go, campione, Mandzukic, Dybala, tutti così, tutti i campioni ci sono diventati, cioè abbiamo più campioni che giocatori normali, secondo voi, eh? Vabbè, comunque, a parte questo, detto appunto questo, torniamo a noi, quello che è successo dopo Napoli-Chievo è una cosa vergognosa, perché gli Juventini sono dimoralizzati in una maniera impressionante, ma arriviamo dopo al punto nel quale vi dirò un po' di cose da qua a fine del campionato, ok? Perché alla fine ci saranno molte, ci sono ancora molte partite. La cosa bella è, adesso la, non so, l'ottimismo degli anti-Juventini, degli altri YouTubers che fanno finta di essere obiettivi e poi sono anti-Juventini anche loro, degli opinionisti. Allora, prima, prima di Benevento-Juventus eravamo a più 4, ok? E cosa si leggeva in giro? Campionato chiuso, campionato chiuso, campionato chiuso, campionato chiuso, campionato chiuso, campionato chiuso, bene. Dopo Napoli-Chievo-Verona, campionato riaperto, il Napoli sta dietro la Juventus, adesso ci possono credere. Quanto siamo? più 4. Con una giornata in meno. Ditemi cosa cambia. Allora, sono il primo ad essere incazzato per la vittoria del Napoli, perché io ieri veramente ho guffato fino all'ultimo, però avrei comunque, pensavo comunque vincesse il Napoli, ok? Non al novantatresimo, faticando sì, ma non al novantatresimo, però pensavo vincesse, infatti ha vinto. Ma, veramente, diciamo, la mancanza di equilibrio e gli sbalzi da una parte all'altra che si fanno in 5 minuti sono una cosa mostruosa. All'ottantottesimo il Napoli era finito, al novantatresimo possono crederci. Il divario rispetto alla Juventus è quello di prima del Benevento. Prima del Benevento, ripeto, eravamo più 4. Stesso vantaggio che abbiamo adesso. Molti mi dicono, sì, ma segnare al novantatresimo ti dà un'enfasi maggiore, ti può superire alla stanchezza fisica e mentale. Il gol al novantatresimo di Di Bala, di Di Bala, ok, che ha portato la Juventus a quant'era? Sopra, sopra Napoli se non sbaglio, no? A più 1, più 2, adesso non mi ricordo. La stessa sera che poi il Napoli ha perso, se non sbaglio, in casa contro a Roma, proprio dopo il gol di Di Bala. Quello è un gol che mentalmente può influire positivamente sulla squadra avversaria e negativamente sulla propria squadra, ok? Quello sì che può influire. Ma un gol al novantatresimo, che è importantissimo per il Napoli, per carità, non lo metto in dubbio, ma che ti fa semplicemente rimanere al passo della Juventus. Non è che ti fa accorciare dalla Juventus, ti fa semplicemente rimanere al passo, ok? Con il Napoli stanco, con la lingua per terra e molti mi dicono, ma anche la Juventus, ma anche la Juventus è sto par di coglioni, perché la Juventus è e sta giocando ogni tre giorni da gennaio, senza calcolare settembre, però da gennaio, nella seconda parte di stagione, la Juventus sta giocando ogni tre giorni e non mi dite che ha due rose, perché la Juventus da gennaio fino ad ora, ad oggi, praticamente l'intera rosa non l'ha mai vista, perché lì davanti hanno praticamente giocato sempre gli stessi, Costa, Dybala, Higuain. Ogni tanto mangio chi ci si è fatto a male pure lui. Bernardeschi, Quadrado sono stati fuori, al centrocampo giocavano praticamente sempre gli stessi, perché Allegri, per certi versi, l'ha un po' testardo a mettere sempre gli stessi, però comunque alla fine, anche al centrocampo, abbiamo avuto alcuni infortuni. In difesa è l'unico probabilmente reparto che stiamo cambiando, ma dopo una battosta per 3-0 contro la Madrid ci può stare un calo mentale, più che fisico, anche se comunque sono stato molto critico per la vittoria come è avvenuta contro il Benevento, sia chiaro, non tolgo quello che ho detto sabato, però da quelli che mi dicono il Napoli con questo gol avrà una nuova enfasi contro una Juventus stanca, ragazzi, se va tutto come volete voi, sono cazzi per voi, cioè non so se vi entra in testa questa cosa. Perché la Juventus sta faticando, è con la lingua per terra, ma sta giocando ogni tre giorni, la Juventus non ha buttato a puttane tutte le competizioni per concentrarsi sullo scudetto. Capite che quando quelli che mi dicono, eh ma se la Juventus non dovesse vincere lo scudetto, io mi incazzerei comunque, però sarebbe una grandissima figura di merda rispetto a se non dovesse vincere lo scudetto il Napoli, no! Perché la Juventus è stata su tre competizioni fino alla fine praticamente. Il Napoli ha mandato a puttane tre competizioni per una e se non dovesse vincere lo scudetto il Napoli. Il Napoli farebbe una figura di merda, non la Juventus che arriva da sei scudetti in fila, tre copitali di fila, con una finale da giocare a maggio. Questo è! Ragazzi, cioè, ma ci prendete, mi prendete per il culo? Perché questo state facendo. Allora io capisco, ripeto l'incazzatura per la vittoria finale del Napoli ieri, sono d'accordissimo, però sia gli anti-juventini, sia i napoletani, sia gli anti-juventini, sia agli opinionisti su YouTube, in TV e quant'altro, agli utenti di YouTube, tutti i tifosi del cazzo che ci sono, non avete un equilibrio di merda in testa, non avete un equilibrio mentale, non avete. Non potete passare da Napoli fottuto all'87esimo a Juventus fottuto al 94esimo quando la Juventus è sopra di quattro punti. Non siamo sotto, siamo sopra di quattro punti. Quattro cazzo di punti. E in più, ultima cosa, con sette partite a giocare, con il Napoli, che tra l'altro secondo me non si deciderà la prossima giornata, ma la prossima settimana, indipendentemente da Juventus-Napoli, il Napoli tornerà ad avere tre partite in una settimana e lì vorrò vedere, e lì vorrò vedere, perché la Juventus è abituata, ha giocato praticamente tutto l'anno tre, una volta, cioè tre volte in un cazzo di settimana, il Napoli no. Il Napoli a gennaio non sta giocando una volta ogni tre giorni. E la prossima settimana avrà il Milan, la partita infrasettimanale che non mi ricordo contro chi cazzo sia, ok? Era finita pure la cazzo di memoria cellulare, con tutte le puttanate che dite e che state dicendo da ieri. Comunque, avete capito il mio ragionamento? È questo. Ok? Allora ci sta, ripeto, di essere incazzati per la vittoria finale del Napoli, però prima, prima di Napoli Chievo, chi avrebbe mai detto che il Napoli non avrebbe vinto? Ragazzi, siamo sinceri, il Napoli arriva già da un pareggio a Reggio Emilia contro Sassuolo, quindi sarebbe stato veramente una manna dal cielo una non vittoria del Napoli ieri. Non di certo ieri il Napoli doveva perdere punti rispetto a noi, non di certo ieri. In altre partite, magari come a Milano, che tra l'altro salterà Bonucci, se fosse successo con noi, che tra l'altro all'andata è successo così, però infatti qualche polemica c'è stata, ma fosse successo adesso, in questo momento, in questo momento cruciale della stagione, avrei voluto davvero vedere. Detto questo, ragazzi, io non aggiungo altro, ma l'equilibrio voi non sapete neanche che cazzo sia, perché quelli gli Juventini, tra l'altro, che mi dicono... Eh, ma sai... Ripeto, comunque, il Napoli fra una prossima settimana giocherà dopo tanto tempo, una volta ogni tre giorni, e lì vorrò vedere. E secondo me lì il Napoli... A Juventus-Napoli, ragazzi, secondo me poi posso essere smentito. Il Napoli non arriverà a meno 4. Secondo me arriverà a meno 6, ok? A meno 6 arriverà. Poi, ripeto, posso essere smentito perché se la Juventus non fa la Juventus può perdere punti contro la Sampdoria e contro il Crotone, però se la Juventus fa la Juventus, ok? Come ci ha dimostrato in questi sei anni, il Napoli, secondo me, allo scontro diretto non arriva a 6 punti. Cioè, non arriva a 4 punti, ma arriva a 6 punti. Va bene? Questo è quello che penso e ovviamente quello che spero. Bene. Detto questo, ci sta essere realisti, non sono il primo, e sapete, anzi, sono il primo a dire i campionati non si vincono adesso, ma si vincono quando c'è la matematica. Sono il primo a dirlo, mi conoscete. Ma sono anche il primo a dire che ci vuole equilibrio nei giudizi. Non si può cambiare un giudizio a seconda del risultato. Il risultato è importantissimo, ma non si cambia il giudizio su una prestazione di un mese, di due mesi di una squadra, perché il Napoli è da due mesi che sta arrancando. Adesso, maggiormente, ma è da due mesi. La Juventus, bene o male, cazzo. Poi mi dicono, partita sporca. No, allora, la partita sporca del Napoli in questo mese è stata magari quella contro il Genoa, non quella in casa contro il Chievo che vai sotto per una cazzata tua, poi non ce la fai, rischi di perderla o pareggiarla al massimo. La partita sporca è stata quella contro il Genoa, che non hai rischiato praticamente nulla e hai sfruttato un angolo. avendo culo, quello che volete. Ripeto, il culo bisogna crearselo comunque. Quella è una partita sporca. La partita sporca è quella della Juventus contro la Lazio, che ha sofferto e ha vinto una 0-93. Non dove prendi gol, non dove vai sotto, non dove rischi di perdere la partita. Quelle sono partite gestite male, poi raddrizzate da una genialità di un giocatore o di due giocatori in questo caso. Perché Milik comunque è un ottimo attaccante. Non è un fenomeno, un campione, però è un ottimo attaccante. Ripeto, e l'ho detto anche a Pepone questo. Il Napoli, a Torino, se vuole venire a vincere, deve mettere Milik. Perché contro una difesa, una squadra fisica e molto tattica, come è la Juventus, come lo è stato anche il Chievo, anche se comunque in maniera molto più bassa. Però contro queste squadre qui devi mettere un giocatore fisico, che con i piedi comunque Milik ci sa fare. Però fisico, che sappia combattere con gente contro gente come Benatia e Chiellini, ad esempio. Però, ripeto, calma, perché state veramente... c'è un pessimismo generale e incredibile per un gol fatto al novantatresimo. E c'è un fatto di cambiare giudizi per un gol preso o fatto, allucinante. E così non si guarda il calcio. Mi dispiace, ma così significa non sapere un cazzo di calcio. E non voler guardare avanti, non voler guardare la realtà, insomma. Che sono il primo, ripeto, a dire che lo scudetto non si è vinto. E non l'abbiamo vinto. Ok? Lo vinceremo con la matematica e basta, se lo vinceremo. Però, da qua a dire siamo fottuti tutti, ce ne passa. Perché, ripeto, comunque, la prossima settimana, segnatevi queste parole, sarà la decisiva. La settimana decisiva. Per noi, ma soprattutto per il Napoli, secondo me. Ok? Buona continuazione e fino alla fine. Forza Juventus!